O Spezia, che poi plate che ne abbiano tanti di soldi o pochi, non è quello il discorso. Gli danno fiducia, fanno un investimento da 2 milioni di euro. È presentato appunto come il miglior trequartista della Serie B per quanto bene ha fatto a Cittadella. Sembrava ritrovarsi, viene da noi. La fiducia, l'investimento è tutto un po'. E adesso che siamo in difficoltà, non credi più nel progetto. Dice lui, ho bisogno di nuovi stimoli, non credo più nel progetto. Ma stai scherzando? Ma prima io ti gonfio di botte e poi ti mando via, giusto per non incitare nessuno alla violenza. Ma un personaggio così è fuori dal mondo, è fuori dal mondo, ma scherziamo. Ti aiutiamo a ripartire nella carriera, proprio i piccoli uomini, grandi atleti, ma piccoli uomini. Poi sono un po' stanco di questi giorni, mi incazzo facilmente, no? Ma una cosa così è inaccettabile. 2 milioni di investimento, ti diamo spazio, ti diamo fiducia. Quando la squadra è in difficoltà, ti vuoi cambiare aria. Ma non tornavi più, ma non tornavi più, ma davvero davvero? A te favo quattro alerfi come Mahome, eh? Ah non so, roba da matti. Grazie.